Nel giorno in cui anche i tifosi, quelli più accesi della curva, voltano le spalle alla squadra granata, eloquente lo striscione in curva, il Fano pur giocando, forse meglio di altre volte, e creando sicuramente i presupposti per una vittoria che avrebbe ai punti, è meritato. Non batte la Giacomense nel secondo incontro, Casaringo ravvicinato, dopo i chietti anche la Giacomense fa punti al Mancini, il Fano c'è da dire, ha giocato un buon primo tempo e nel finale della gara un paio di occasioni potevano regalargli la vittoria che manca ormai da tempo memorabile. Cronaca subito Fano nel primo minuto, Ferrari tira dal limite, sulla traiettoria si inserisce Trimarco, palla a lato, non di molto, quarto minuto, una delle rare occasioni per la Giacomense, l'esperto Vagnati, ex Massese e spalle da limite alla palla buona. Pallo pieno, tredicesimo ancora la Giacomense con un tiro debole di Staffolani dalla distanza, palla a lato, da qui inizia il forcing del Fano che dal ventesimo fino al quarantaseiesimo non avrà soluzione di continuità. 21esimo percussione di Conti, bella giocata del 92, palla fuori di poco, 29esimo era Capodaglio che sbagliava il tiro ma si inseriva fortunosamente Ferrari che non impensieriva il bravo Poluzzi, 31esimo punizione di Conti, Poluzzi sbrogliava di pugno, 32esimo angolo del redevivo Conti, misca fuori bonda con Misin che non riusciva a centrare la porta. 35esimo ancora Fano e questa è un'occasione molto importante, Trimarco va via da sinistra, Ferrari non ci arrivava per un niente, 36esimo ancora Fano, grande l'occasione che capita sui piedi di Urbinati che ha tu per tu con Poluzzi, si fa rispingere la conclusione in corner, 40esimo ancora Fano, scrosta, ruba palla e tira di prima intenzione, palla che viene parata da Poluzzi. 42esimo Misin per Urbinati che sfonda destra, traversone lungo e amaranti dalla parte opposta, calcia in curva, ancora Fano, davvero ottimo gli ultimi 20 minuti del primo tempo, 46esimo, bel numero di Conti, sta filata dalla distanza. Para ancora Poluzzi, primo tempo che si conclude qui, nel secondo tempo il Fano stenta un po' e ci vuole ancora Conti per far suonare la carica. 13esimo si gira il 92 Scuola Milan e effetto un bel tiro, la parata, ancora dell'attento Poluzzi, Giacomense qui nel 14esimo con Staffolani che impallina da due passi perrucchini ma il gol viene annullato per evidente fuorigioco dal direttore di gara Ceccarelli di Terni. 20esimo ancora Conti che va via ma calcia su Poluzzi, quindi al 25esimo sul sviluppo di un calcio di punizione, amaranti avrebbe la palla buona ma il tiro è di destro che non è proprio il suo piede, palla che termina a lato. 37esimo era Carboni che c'entrava da destra, la girata di Ferrari, la parte ancora di Poluzzi, 28esimo, la palla buona però era questa volta per la Giacomense con Lanconetano Staffolani che si girava in aria e perrucchini. Si salvava, 39esimo, Iazzetta subentrato nel finale a un più che positivo Conti, serviva Ferrari che a tu per tu con Poluzzi si faceva respingere il tiro, davvero bravo il portiere classe 88 grigio-rosso ma ingenuo. L'attaccante Fanese, 40esimo ancora Fano contro Imarco che da posizione defilata tenta il tiro in porto invece di servire compagni al centro, la palla termina alto.